ormai mamma on Loro no, sopra c'è uno che stava in bagno, all'improvviso, è arrivata una cosa che si è morto, ma per scherzo, penso, non è, ma si è fatta un ritardo per noi che dobbiamo andare. Siamo, sopra c'è un morto. Ma per scherzo? Per scherzo, ho proprio paura. Ma dove siamo? A Frittole. Frittole? A Frittole. Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così. O voi? Noi? Noi siamo vestiti bene, non come voi. Almeno è normale. Eh, non so. Cavalli, morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo? È 1.400. Quasi 1.500. Noi abbiamo tant'unità. D'Aveglio! Che si sono pazzi? D'Aveglio a mamma anche. Vieni qua, vieni, mori. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua.